Una lista Tosi sarebbe danneggiare la Lega, così bossi nel Vicentino per gli stati generali che ammette nel partito tensioni ma non rotture. È normale che la Lega si affianchi con la società civile, con delle liste civiche. Ci deve essere la lista di Tosi. No, la lista di Tosi, non mi pare che Tosi possa presentare la lista civica col suo nome. No, sarebbe danneggiare la Lega. Io posso dire che i nostri deputati, certe votazioni che abbiamo dovuto fare a Roma, gli hanno fatto la volta a stomaco come le hanno fatte. Bossi ha risposto a stretto giro di posta a Tosi dicendo che Tosi è uno stronzo. Scusate il mio francese, ma queste sono le parole del leader della Lega. E' anche detto che ha portato i fascisti dentro la Lega e che questo non si potrà sopportare ancora per molto tempo. Fino adesso è stato eletto sempre bossi per acclamazione. La prossima volta, non lo so perché, in democrazia ci sono i candidati e poi si muta. Così non possiamo andare avanti. Anche con il ragionamento con la BDL. Quindi dal cerchio magico hanno capito che se dovessero perdere la segreteria, sicuramente con lo scontro, ma soprattutto con le balle che hanno raccontato, sarebbero comunque ridimensionati o qualcuno ci lascia anche le penne, per l'amore di Dio, perché quando uno rompe continuamente e usa forse la prepotenza per andare a controllare i territori solo a scopo o beneficio personale, a scopo o beneficio personale,